oggi non si camminava attenzione però perché mi cascava per colpa del tuo io pulito poi arrivo e poi rovescio la birra quindi c'è ancora l'incognita su chi si è stato attenzione Ponzia ora arrivo stai tranquillo mi invita è un mio fan Ponzia 04 mi invita si mi vuole e ora dopo dove si fa ragazzi fatemi realizzare per i qui presenti qui c'è una grande popolazione siamo in sei ma stavano 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 attenzione ragazzi ci siamo non ci va a fare l'ambiente e durante la nave l'avevano ucciso sei in casa no no l'ha detto molto più no no ha detto una cosa non sarebbe pesa e il problema è che il proprietario della franzia è ebreo sì ma non lo hanno bannato da tweet ci siamo ci siamo nico devo fare questa reale devo fare questa reale per il filip per l'ebreo Ponzia 04 è sta siamo ragazzi Ponzia 04 continua Ponzia arrivo Ponzia arrivo tranquillo arrivo devo realizzare qui c'ho sei persone e li devo far felici devo far Ponzia arrivo devi stare tranquillo devo far felice queste persone ma devo fare una realizzazione per voi Ponzia Ponzia è ricco chiama questo dai vatti è sicchio e la molla Giulio sicchio 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 tutta la patata del proprio bimbo cosa ti pensa la non è non è non è non è non è ma oh chi sei ma non c'è non c'è non c'è ora arrivo arrivo vai Matte ti ascolto dai c'è un Ponzio Matte arrivo siamo rimasti in 30 dai devo c'ho qui degli ospiti vi devo far vedere come si realizza si realizza e arrivo dai ci sono Ponzio aspetta un secondo dai dammi due secondi realizzo dai su due secondi faccio una realizzazione per ciappi perché ancora non li ho deviato ciappo arrivo ciappo arrivo ciappo arrivo andiamo 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 e il ciappo il ciappo attenzione guardate la scella guardate la scella oh attenzione chi chi è chi è attenzione scappiamo via number one number one i am number one ponzia ponzia devi stare tranquillo ci siamo ragazzi siamo ponzia continua giulio sono on fire mi stanno caricando ragazzi mi stanno caricando ci siamo ci siamo andiamo esageriamo come diceva mico mammato attenzione lì c'è qualcuno io non gli voglio dare noia perché voglio arrivare fino in fondo voglio arrivare fino in fondo che facciamo ragazzi lo squartiamo vai 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 sì sei finito sì ancora 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 sono numero uno vai ricordi le saghi sono numero uno ci siamo ci siamo ragazzi siamo in diciannove pippo ci siamo ragazzi ponzia continua perché sono devastati è kevin quello è kevin che commenta è arrivato segno qualcosa per kevin che che viene malato che viene malato non sta bene c'ho un po di non so che c'è che c'è un po di che c'è attenzione ragazzi siamo rimasti in 14 incominciamo a concentrarci incominciamo a concentrarci ponzia e con te lo so che mi vuoi appena ponzia ponzia guarda quando siamo in due mi disconnetto quando siamo in due quando siamo in due ma stai buono ti devo dai coso non ci metti i tempi non servono a sega ora mettici i chat e darsi sgonfiare ragazzi ragazzi devo star concentrato devo star concentrato dove è ma dov'è ma dov'è non li sti la marcellata martella sono deficiente di merda sono illegale pittoso non è illegale ma chi è che spara ma chi è che rompe il cazzo ma sono tutti qui ragazzi ma sta buono non c'ho vita campero ma quanto c'è ti c'è ma sono a sega ragazzi campero campero ragazzi siamo siamo nella nostra play ragazzi dobbiamo star concentrato stai buono stai buono per rischiare campero ma non mollo campero ma decollo campero camperare stai tranquillo stai tranquillo dovevo uno squadra dentro la zona sicura e poi inizia a martellare quello fuori no ma che panino caccoli ma che cazzo fa no no ancora ma 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 cazzo è un gioco cazzo ma cazzo ma cazzo 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 ragazzi sono illegale sono illegale oh ciao ragazzi il ciao a fine di questa puntata leggerò la poesia che ho dedicato oggi ragazzi ho scritto una poesia oggi amore ho scritto una poesia non l'ho mai scritto per te un bigliettino auguri ho scritto un bigliettino auguri ciao stiamo concentrati stiamo concentrati posso regalare questa vittoria al Filippo posso regalargliela posso farlo sognare posso dare un senso a questa giornata posso dare un senso a questa giornata sto dominando ragazzi sto dominando Giulio Camperone lì c'è una siepe pazzesca devo andare lì ma che ce ne esaltava le due giocava a 6 metri si no io ce la faccio io sono umile attenzione attenzione 5 follower ragazzi siamo online siamo online stiamo dominando che costruiva costruiva la roba le scale anche le branche c'è streamer professione o molti meno follower ce ne è 5 ragazzi è giusto dedicargli una grande professionismo è giusto dedicargli questa vittoria nascondiamoci l'intietro non ci interessa Ale Lenni Alino mi hai tirato in causa come streamer di professione come streamer di professione ma lui è obiettivamente parlando io intrattengo io intrattengo lui è il miglior streamer perché l'unico a streamare tour de france 2020 non lo so che tour de france è devastante è vero? si si di giochino era l'unico su twitch che streamava il gioco ho chiesto quello vero ma vero è il gioco è il gioco vero originale oh silenzio ho sentito dei passi siamo in 5 ragazzi siamo in C ragazzi ci siamo ragazzi ci siamo facili una lima che ti go c'è guardiamo occhio guarda destra guarda 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 c'è la spara dà un'occhiatina gira giriamo la testa fuori ecco guarda 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 mamma mia c'è la mia siepe no io sono quello c'ho quello fisso qui sotto no qui sotto no poi non risalgo più non risalgo più eh ma non risalgo più ragazzi qui non risalgo più c'è la siepe guarda cosa è scritto cappellino blu si inventizza bellissimo attenzione ragazzi siamo in tre devo aspettare quei due si scanino e poi vado io ma non mi interessa quei due si devono scannare e a quel punto intervengo la sitina lì sopra però la volina no mi sto scanando si stanno scanando via no ho sbagliato aspetta 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 stanno scanando eccolo là eccolo là spara 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 oi 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 oi